Eccoci, questo è lo Street Soccer Cage, è una speciale gabbia che qui allo Stadio di Polcari useremo per la Toscana Goal Summer Cup, il grande torneo, la grande iniziativa per l'estate 2024. Vedete, qui si giocherà il calcio di strada, lo Street Soccer, sarà due contro due, l'abbiamo aperto ai ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009. Potranno venire e potranno fare squadre anche con tre o quattro ragazzi ma giocheranno chiaramente il due contro due, portine piccoline, un regolamento specifico, so che diversi ragazzi già sono interessati, ci hanno cercato per formare la loro squadra. Ecco, contattateci a www.toscanagol.it, i numeri che abbiamo, cercateci e vi daremo tutte le informazioni, fatevi la vostra squadrina e venite qua a divertirvi la sera d'estate allo Stadio di Polcari.